Motolive compie 8 anni e prevede un fitto calendario di appuntamenti, tra cui la gara internazionale di quote di supermoto, la finale del campionato europeo di supercross e ancora motocross freestyle, trial acrobatico, esibizioni e spettacolo puro con stuntman d'eccezione. Motolive Dani, facciamo vedere che cos'è Motolive, finalmente abbiamo il volto di chi cura questo grande contenitore adrenalinico, abbiamo con noi Giacomo Casartelli. Giacomo, tanta adrenalina, tanto divertimento, spettacoli, quest'anno addirittura abbiamo anche la finale dell'europeo di supercross. Sì, assolutamente, è un onore per noi poter ospitare per la prima volta la finale del campionato europeo di supercross, SX Series, per questa gentile concessione devo ringraziare sicuramente Alfredo Lenzoni e Offroad Pro Racing tutta per aver creduto ancora una volta in noi. Tengo a precisare che tutto questo, tutto ciò che rappresenta Motolive è il frutto di un anno di lavoro grazie ad una squadra, ad uno staff incredibile che non smetterò mai di ringraziare e chiaramente grazie a ECMA che continua a investire in questo tipo di area che non ha precedenti come ben sapete voi amici a livello internazionale. Bene Giacomo, continuate così, alla grande! Bene Giacomo, continuate così, alla fine! Bene Giacomo, continuate così, alla fine!